Ciao Carmine, ciao Simone, ciao Massimo, ciao Riccardo, quindi partiamo ufficialmente con questa live. Questo qua è il sito ancora in fase, diciamo, di test di Carlo e andiamo ad analizzarlo. Lo analizzerò in questo modo. Andremo ad analizzare tre aspetti. L'aspetto di comunicazione, l'aspetto di design e l'aspetto tecnico, ok? Per fare questa analisi utilizziamo la checklist che c'è nel corso Next Level UX and Conversion Web Design che è uno strumento, io adesso l'ho stampata, ma è uno strumento PDF molto utile che ho messo a punto in tanti anni di sviluppo che è sostanzialmente un controllo che vado a fare quando devo andare a visionare un sito perché facendo questo controllo sono sicuro che tutti gli aspetti fondamentali del sito sono stati, diciamo, valutati, sono stati corretti. Vedo che c'è un commento. Ciao, ciao Marco. Ok, perfetto. Quando ci sono i commenti mi appare qua. Quindi, partiamo da questo sito. Complimenti innanzitutto a Carlo perché è migliorato tantissimo negli ultimi tempi perché ho visto, per esempio, sulle immagini c'è una grande qualità. Questa qua è un po' troppo, diciamo, secondo me è un pochino troppo patinata dal punto di vista, questo, diciamo, dal punto di vista proprio dell'immagine. È ritoccata molto bene, però forse è un pochino troppo patinata, un pochino troppo il viso, la pelle, un pochino troppo, tra virgolette, finta. Però mi piace molto, cioè nel senso un pochino meno effetto, così patinato, proprio un pochino, e sarebbe un'immagine bomba, stile quasi Apple, ok? Come qualità. Partiamo dal punto di vista, diciamo, comunicativo. Nella comunicazione del sito, appena atterro sul sito, devo capire qual è l'obiettivo del sito, che cosa fa la persona, l'azienda che c'è, che si presenta sul sito, e devo dire che qui questa cosa è fatta bene, ovvero qui si capisce subito che Carlo realizza siti web, ok? In questo caso, unici ed emozionanti. Ok, ci può stare. Hai un bisogno di un sito web, vedete che parte con la domanda, quindi la domanda serve per catturare l'attenzione, realizzo siti unici ed emozionanti, ok? Qui sotto, nella descrizione, la descrizione è un po' troppo lunga, ok? Questa qua fa un po' l'effetto muro di testo, quindi magari la farei di tre righe, massimo quattro, ok? Non andrei su più righe, perché sennò abbiamo l'effetto muro di testo. Qui mi devi dire tutti i benefici, se vengo da te, tutti i benefici della figura che io sto presentando, dell'azienda, della realtà che sto presentando in questa casa, è un sito personale, quindi devo dire tutti i benefici. Qui a livello di benefici, stiamo parlando logicamente di comunicazione adesso, ragazzi, ci sono benefici, ma secondo me si può fare meglio, nel senso, non lascio dettagli al caso, ok, però vedi che la comunicazione è molto centrata su di te, cioè tu non lasci dettagli al caso, tu non vedi l'ora di partire, metterti al lavoro, però quali sono i benefici, non per te, ma i benefici per chi viene da te? Potrebbe essere che ci sta qui, anche qua sotto, progettato doc, realizzato d'arte, curato nei dettagli, sì, ok, però sono molti incentrati su di te, invece pensa all'utente, potresti dire che crei siti che sono affidabili, che sono sicuri, che sono veloci, che sono studiati sulle esigenze del tuo cliente, che possono portare risultati al tuo cliente, quindi cerca di mettere giù una lista di benefici, logicamente, che tu puoi garantire, o comunque che puoi ottimizzare nell'attività del tuo cliente, e inserisceli qui in massimo tre righe. A livello di punti di forza, quindi in base alla descrizione qua, qui andrei anche a sostituire o a mettere dei punti di forza che sono benefici sempre per il cliente, non incentrati su di te, quindi l'above default, il primo pezzo del sito, va bene, ma si può migliorare in questi punti dal punto di vista della comunicazione. Vediamo se ci sono domande su questo. Ciao Alessio, ciao Davide, no, sono tutti saluti, ciao, ciao, il prossimo sarà il mio, appena termino il design, grande termine, mandamelo, che poi lo guardiamo. Praticamente, quindi, analizzato l'aspetto di comunicazione dell'above default, che è il primo pezzo visibile del sito senza scrollare, non abbiamo ancora scrollato, perché ci soffermiamo così tanto sull'above default? Perché è la parte più importante del sito. Se noi qui sbagliamo la comunicazione, sbagliamo qualcosa qui, perdiamo l'utente, ok? L'utente non scrollerà. A livello di design, ci siamo, non è male, e come dicevo, l'immagine è molto buona, ma ci sono cose che si possono migliorare. Per esempio, il pulsante. Questo verde qua è un po', secondo me, troppo sparato per la palette colori che stai utilizzando. È proprio il verde del pulsante rispondi dell'iPhone. Utilizzerei un tono di verde un pochino più light, un pochino più, meno pieno, perché così va un po' a cozzare con, vedi, questo blu qua non è così sparato, è un blu un pochino più tenue, il verde più tenue potrebbe essere, potrebbe starci meglio, ok? Per creare e trovare palette colori, nel corso, Carlo, io ti faccio vedere che sito utilizzare. Adesso, visto che siamo qui in diretta, vediamo quanti siamo. Siamo in 11, ok? Visto che siamo qui in 11, che mi state ascoltando, vi faccio vedere qual è questo tool. Si chiama, cioè uno dei tool che si possono utilizzare è, è, happy use, ok? E qui abbiamo tutta una serie di palette già predisposte che possiamo vedere. Vediamo se ce n'è qualcuna sul blu, no, sono tutte scure. Col verde e col blu non c'è niente, però potresti utilizzare, qualcosa del genere, ok? Un blu un pochino più chiaro e le call to action io le farei così, rosse. Cioè qui ti fa vedere un esempio, però se tu fai lo sfondo blu puoi usare il rosso così come colore complementare al blu sulle call to action. Quindi verrebbe sfondo blu e pulsanti call to action così, secondo me è una bella color una bella color che potrebbe stare bene qua. Il logo, si, non mi fa impazzire questo disco, lo preferirei semplicemente con le lettere, quindi D e S, tutto bianco, però questo diciamo va molto anche su, questo è più soggettivo, mentre invece le call to action è proprio che diciamo non è soggettivo, cioè questi colori sono un pochino, non cozzano troppo tra di loro. Quindi il logo lo farei tutto bianco, D e S senza il pallozzo, quindi ancora più minimal. Qua sulle spunte, logicamente qui ci sono dei problemi di visualizzazione, ma è un sito in test, quindi qui devi fare un test sui device che hanno una grandezza di 1440, che è una delle grandezze più comuni su web, perché vedi che qui c'è questo elemento qua, questo trattino qua, che va sopra il testo, immagino perché questo testo va a capo, quindi qua c'è da sistemare quella cosa lì. Poi, stessa cosa qui, vedi che questo va sopra lo scroll, devi fare un'ottimizzazione per questa grandezza qua, 1440. Non mi fa impazzire la V, non so se è un errore, non so se per caso non mi sta caricando degli stili, ma la V messa così non mi dice niente, qui ci dovrebbe essere la spunta, nel corso qui mettiamo le spunte, quindi credo che sia un errore tecnico, controllalo su Chrome, perché semplicemente penso sia una spunta che non funziona, ok? Che non va, che non funziona, che non viene messa bene. Quindi, per quanto riguarda il design della Bob Default, sono questi i miei feedback, potresti mettere magari qualcosina sotto, se vuoi dare un pochino più di tridimensionalità, un pochino più di carattere, oppure mettere un pattern molto leggero su questo blu, però anche così va bene, diciamo, si può migliorare, magari mettendo qualcosina per rendere il design un pochino più accattivante, però devo dire che l'impostazione c'è, le immagini sono molto buone, e se fai queste modifiche che ti ho detto, sei già a cavallo. Un'altra cosa che ti hanno segnalato anche gli altri ragazzi nella community, io logicamente sto facendo le pulci, ragazzi, vado a vedere tutto, però è così che, diciamo, si cresce, si può sempre migliorare, anche qualsiasi sito che faccio io può essere migliorato, poi bisogna sempre avere tempo, voglia, budget, eccetera. Non mi piace neanche a me questo pulsante qua di WhatsApp, ok? Per le icone di WhatsApp usiamo l'icona ufficiale, cioè l'icona con lo stesso colore di WhatsApp, non cambiamo il colore perché l'utente è abituato a vedere l'icona di WhatsApp con quella forma lì, con quel colore lì, quindi è più immediato se lo mettiamo esattamente esattamente uguale. Vediamo qua il cerca, il cerca, ok, qui c'è qualcosa qui sulla X che salta, dagli un'occhiata, poi andiamo avanti a scrollare, anzi no, qua vediamo, c'è la dark mode, ok, hai fatto un invert secco anche sull'immagine, ok, va bene, insomma qua sull'immagine potresti anche non farla cambiare, andiamo giù, vediamo questo box qua, beh, qui c'è un problema di visualizzazione, anche qui ottimizzalo su 1440, vedi che qua non va capo, un'altra cosa che a livello di design può darti, fa la differenza tra il professionale e il non professionale, questo tipo di sfumatura qua così leggera, così piccola e così secca è ormai un po' fuori moda, ok, non è molto percepita come molto professionale, fai una sfumatura più grande, fai una sfumatura di 30 pixel, molto molto meno nera, molto meno pronunciata, ok, questa sicuramente può darti un look and feel più professionale, per esempio, non so, voglio farti vedere un esempio dove c'è questo tipo qua di sfumatura, no, sul mio sito non c'è, vediamo se sul mio sito c'è, anzi, sul mio sito, sull'e-commerce c'è sicuro, se vedi, guarda questa sfumatura qua, vedi com'è più leggera, questa è molto più professionale che questa, vedi che differenza, ok, e nel mentre, tutte queste cose qua le vediamo nel corso Next Level UX Incorporation Web Design, ragazzi, questo qua, dategli un occhio, tutte queste, parliamo esattamente di tutte queste tecniche che stiamo analizzando adesso, qui l'immagine è connessa al messaggio, sì, è una metafora, diciamo, può essere un'idea, sarò alla porta aeree della tua comunicazione online, beh, devo dire che comunque è un'idea che può starci, il copy, lo sai che nei primi sei mesi del 2021 più di 4 miliardi di persone si sono collegate a internet, oltre 6 ore, conviene approfittarne, beh, qui può essere, può essere un'idea, sicuramente si può a livello di comunicazione portare avanti questo discorso e far percepire ancora di più, magari, le opportunità che ci sono online, ok, qui abbiamo un cambio di colore sul background, ok, qui ci sono questi tre puntini non colorati che non mi dicono granché, qua abbiamo il muro di testo, quindi qua dal punto di vista sia di user experience che di design non va bene, perché questo è l'effetto muro di testo, io qui non riesco a leggere niente, dobbiamo fare blocchi di tre righe, poi uno spazietto, un altro blocco di tre righe, quindi dobbiamo fare, spezzettare il testo ed evitare questo muro qua, una delle cose a livello di comunicazione più difficile da fare sul web è quello di riuscire a condensare tutto quello che vuoi dire in piccoli blocchi di testo, in piccoli parti di testo e non fare il muro, questo è una cosa difficile da fare, difficilissimo, forse la cosa più difficile da fare dal punto di vista della comunicazione è avere il dono di sintetizzare le cose, però se tu butti giù tutte le idee in un paragrafo grosso e poi pian piano vai a eliminare il superflow, vai a revisionare, vai a modificarlo ottenendo dei testi più brevi, siamo a cavallo, vediamo un po' se ci sono domande, vediamo un po' Carlo, cosa mi rispondi, ho bisogno di questo feedback, sì, l'ho ottimizzato su 1600 per i notebook, la V, non doveva, ok con me, non dovrebbe essere così, quindi è un errorino, guarda il blocchista, ok, sto sistemando la versione 2.0, benissimo, quindi evita i muri di testo, l'immagine qua mi sembra leggermente sgranata, ma hanno citofonato un attimo, scusate ragazzi, piccolo stop, guardo un attimo se è per me, apro un attimo ragazzi, scusate il corriere, ok, perdono lo smart working, non perdona nessuno, scusatemi, ripartiamo quindi da qui, ok, quindi l'immagine la vedo leggermente sgranata, quindi qui dagli un occhio, magari caricala un pochino più grave, grande, ok, qui, va bene, anche qui il testo occhio che è un po' lunghino, anche qua sulle spunte stessi feedback, ok, qui, questi elementi qua sono, vanno a fare una sovrapposizione col testo, sempre qua su 1.440, questo non è il massimo, perché vedi che qua mi è più difficile leggere, quindi eviterei, magari metti le laterali, belle laterali, che non vanno a rompere le scatole, e questa call to action qua, così, questo verde, su questo qua, non funziona tanto, qui magari, come ti dicevo, dai un'occhiata alle palette, qua ci starebbe bene, secondo me, un bel, diciamo, rosso, pesca, come questo qua, ok, quindi questo, testimonianze, almeno mettine due, dai qua, sforzati, io ne ho messe due sul mio sito, fai due colonne, metti la testimonianza, e magari metti la foto di Facebook, del tuo cliente, oppure metti il logo, però fammi un allineamento un pochino più, cioè il logo un po' più piccolo, le stelline sotto, e il testo così va bene, e magari mettici il nome, ok, della persona, ce ne vorrebbero almeno un paio, ok, dal punto di vista del design, e della comunicazione, sezione, che ne pensi, con l'accordion, così, niente male, magari questi più e questi meno, falli bianchi, o falli del colore della call to action, sempre il rosso pesca, così diventa più visibile, e sarebbe figo, l'abbiamo visto nel corso, che questo si blocca, e quando scrolli, questo va giù, quindi finché scrolli qua, questo testo qua, si blocca, la cosa figa è che questo messaggio, rimane sempre visibile, anche quando scrollo, quindi questo messaggio, che è relativo, poi a queste sezioni, rimane sempre visibile, cosa, questa è una cosa che si può fare, te la consiglio, perché dal punto di vista del user experience, miglioriamo il sito, poi abbiamo call to action finale, anche qui stesso feedback, qua abbiamo qualcosina, che a livello di sovrapposizione, va sistemato, perché vedi che si sovrappone, questi sono articoli, questi titoloni qua, sono un po' troppo grandi, e diminuirei un pochino, anche la lunghezza di questo excerpt, perché se no abbiamo l'effetto muro di testo, e poi abbiamo il footer, il footer qui c'è un po' di lag, questo qua è un problema, che deriva da locomotive, è un problema che abbiamo, che ho risolto, con un aggiornamento del corso, questo è un problema proprio della libreria, che aveva questo bug, ogni tanto fa così, adesso tra l'altro, devo, ho già testato, e sto lavorando, a un nuovo, aggiornamento del corso, next level dev, dove andiamo praticamente, a fare, in modo che il sito, carichi tutte le immagini, prima di essere, di essere, mostrato, cioè se io qua vado a fare un reload, adesso mi appare questo loader, che come ti aveva detto, questo te l'ha detto anche Paolo, non è proprio bellissimo, questo loader qua, fai qualcosina di più minimal, e più piccolino, ok, praticamente adesso lui carica, e capita che le immagini, quando le immagini sono pesanti, in alta risoluzione, comunque ci sono tante immagini, lui calcola l'altezza dello schermo, prima di aver finito, di caricare l'immagine, quindi cosa succede, che lui pensa che, l'altezza del sito è x, poi viene caricata l'immagine, e aumenta questa altezza, e quindi poi si scasina un po', diciamo, lo scroll, per questo, abbiamo già fatto una lezione, ma ne farò un'altra, perché abbiamo trovato, ho trovato un sistema ancora più figo, che ti permette di praticamente, mettere tutte le immagini che vuoi, tanto lui, quando tu scrolli, sostanzialmente lui fa un reload, fa un update dell'altezza dello schermo, andando a risolvere questo problema, in tutte le situazioni, e tra l'altro, adesso ho fatto un nuovo sito, sempre utilizzando il framework, che utilizziamo nel corso, lo pubblicherò a brevissimo, un sito molto, molto, diciamo, esperienziale, molto pieno di animazioni, transizioni, per un brand di Dubai, e sicuramente lo porterò sul canale, e ho utilizzato varie soluzioni nuove, che potrebbero essere la base, o di un nuovo corso, o di nuovi moduli, quindi, questo per quanto riguarda, la parte tecnica, questo discorso qua, dello scroll, andiamo a vedere la pagina, chi sono, ok, perché scegliermi, mi piace, ok, occhio qua, fai uno spazio sempre, fai un bello spazietto qua, se no mi fai il muro di testo, logo animato, ok, acqua, figata, grande, qua ci sono delle abilità, da graphic designer, anche qua, spezzetta bene il testo, qui mi spieghi, le video tecniche, wordpress, come sono arrivato a questo, bello questo sito qua, che hai fatto, molto, molto, questo qua era la prima versione, del tuo sito, me lo ricordo, mi piace molto il font, di questo sito qua, lo stile un po', simile a MailChimp, mi sembra, molto carino, ok, quindi qui racconti un po', la tua storia, anche qua, troppo muro di testo, bisogna spezzare, revisiona tutto, e qua queste animazioni, devono essere, più gentili, cioè non, con così tanto movimento, e più laterali, se no mi vanno a, disturbare, vediamo se ci sono domande, a riguardo, ok, il gap tra le colonne, sì, qui anche Paolo, giustamente, ti dice di aumentare un po', il gap tra le colonne, in generale, nel web design moderno, non abbiamo problemi di spazio, nel senso, tu, ti conviene fare, come diceva anche Paolo, nei feedback, che ti ha scritto a livello testuale, ti conviene fare, tra le varie sezioni, un bel po' di spazio bianco, cioè un bel po' di padding, così non è tutto incastrato, cioè vedi che io qua, nel corso avevo andato 150 pixel di padding, spazia tutto molto molto, ancora più, ancora di più, perché così è tutto più libero, hai più aria nel design, e non ti risulta tutto incastrato, tutto più leggibile, più fruibile, a livello di user experience, è più piacevole, vediamo altri feedback dei ragazzi, mi fa un errore sullo scrolling, sì, guarda, sullo scrolling, adesso farò un'altra lezione nel corso dev, dove andiamo a risolvere, la frequenza dei frame è troppo bassa, no, non rompermi le scatole, facebook, ok, quindi andiamo a vedere le altre pagine, servizi, ok, qui sta caricando, un po', c'è qualche baghettino da sistemare, ok, servizi, ok, qui questo è l'enclino puntato, puoi farmelo un pochino meglio, dai, con i puntini, creazione di sito web, sì, qui magari questa, questa immagine non mi fa impazzire, però ci sta, cioè questo sfondo qua, questo verde qua, non sono, non mi fa impazzire, non mi fa impazzire, prova magari a mettere un grigettino, ce lo vedo meglio, grafica, ok, anche qui, grigettino, un po' così, assistenza tecnica, beh, io ci metterei nei tuoi servizi, visto che fai queste belle immagini, perché non ci metti anche le immagini, le immagini ritoccate, quindi, diciamo, se le fai tu, potresti mettere, gestione immagini per sito web, per esempio, manutenzione, formazione, quindi ti insegno a usare wordpress, ottimo, quindi qui, spaziata giusta, direi, magari un pochino, meglio sugli elenchi puntati, e sulle immagini, portfolio, ok, bella questa animazione iniziale, non mi piace che ti taglia qui, quindi magari, sarebbe più figo, se ci fosse tutto il telefono, nella sua interezza, così vedi tutto, qui a livello sicuramente di immagini, si può fare qualcosa, e poi qui abbiamo il nostro, la nostra sezione come prima, perché il template è lo stesso, qua non mi piacciono questi colori di sfondo, non so come mai, trovo che stonino un po' con la palette colori del sito, ok, è vero che vai a prendere il colore del sito che c'è sotto, però sai, se metti tanti colori in un sito, poi hai troppi colori, è difficile farli stare tutti insieme bene, meglio mettere un grigettino neutro, tipo un ddd, ok, o un e e e, per chi, per i nerd che conoscono i codici colori a memoria, funziona meglio, ok, questo colore ci sta bene, con il blue, infatti questo ci potrebbe stare, devi fare le call to action di questo colore, ok, speedlap, ok, 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 quanti lavori, cavolo, hai già un bel, un bel po' di lavori, quindi, cura, magari mettine qualcuno in meno, mettine qualcuno in meno, e metti solo quelli, i quattro più fighi che hai, no? quindi, i quattro più recenti, i quattro più curati, e presentali, magari presentali un po' meglio, andando più a fondo sul progetto, blog, ok, ok, qui niente da dire, magari l'immagine un po' più piccolina, un po' meno test in excerpt, e poi qui abbiamo il nostro articolo del blog, ok, questo ci sta, qua sullo share vedo che si è rotto qualcosa, e poi ci sta il banner finale, con l'altro commento, ok, qui il footer gira bene, ok, nel complesso devo dire, che è un sito con tantissimo potenziale, se segui Carlo, tutte queste cosine che ti ho detto, e quelle che ti hanno anche suggerito, gli altri ragazzi della community sotto, salta fuori un sito della madonna, quindi non hai più scusa, devi solo metterti al lavoro, vediamo il Paolo, cosa dice, cursore oppure di che segui il cursore, se vuoi cambiare il cursore, lo puoi fare da CSS, per altre cose bisogna andare a DJI S, ok, le conne share non si vedono, devi sistemare l'urlo, ok, perfetto, quindi diciamo che, a livello generale, comunque ottimo progetto, grande potenziale, ci sono alcune cose dal punto di vista comunicazione, il design da sistemare, ma devo dire che, eh, è comunque un progetto, eh, di livello, di livello con tanto potenziale, quindi, basta lavorarci un po', sistemare queste cose qua, e siamo a cavallo, eh, grande Carlo, quindi, vediamo un po', ragazzi, se avete domande, e se no andiamo tutti a mangiare, queste qua sono live, comunque che faccio, eh, per adesso solo sul gruppo, non so se farle anche su YouTube, sul gruppo è un po' più facile, magari le faccio sul gruppo, poi le ricarico anche, eh, su YouTube, per farli vedere anche tutti quelli di YouTube, che non sono sul canale, comunque, mh, se avete, o volete fare una, mettere i vostri siti, farmi vedere a me, a Paolo, ai ragazzi della community, che sono un po' più esperti, i vostri progetti da sistemare, basta che postate, come ha fatto Carlo, eh, un sito sul, sul gruppo, logicamente Carlo ha fatto tutti i miei corsi, quindi io questa è una review che, non faccio a tutti, perché semplicemente non ho il tempo materiale, lo faccio ai ragazzi che hanno preso i corsi, o ai ragazzi che per qualche motivo hanno avuto una mia consulenza, o hanno avuto un qualche contatto con me, quindi se volete comunque avere un feedback sui vostri siti, e non avete fatto né corsi né niente, comunque postateli, magari non vi do un feedback io, vi do un feedback qualche altro ragazzo della community, in generale comunque postate i vostri lavori, fateli vedere alle persone, perché, diciamo, avere feedback da altre persone sui propri progetti web, è fondamentale per crescere. Come vi dicevo, per fare questa review, mentre adesso io andavo a vedere le varie cose, ho utilizzato la checklist, non si vede, ho stampato la checklist, che utilizziamo come linea guida, per la comunicazione, la user experience, all'interno del corso Next Level UX, quindi questo è un documento veramente molto molto importante, che ci permette di capire se un sito è a livello di comunicazione, user experience, fatto bene, se ha qualche grave mancanza a livello di UX, user experience. Andrea, questo è l'unico gruppo per i corsisti? No, c'è il gruppo privato, sul quale si chiama Next Level Pro, e chi ha fatto i miei corsi ha anche accesso a quel gruppo lì. Diciamo che comunque, come Carlo, se non lo posti nel gruppo privato, ma lo posti nel gruppo pubblico, comunque tu, io so che tu hai fatto il corso, e la review, insomma, te la faccio anche sul gruppo free, non è per forza necessario mettere, fare, postare nel gruppo pro, comunque c'è assolutamente il gruppo pro, dove facciamo assistenza a tutti quelli che hanno preso il corso. Ok, immagini webp, sicuramente le immagini webp sono una figata, perché pesano pochissimo, però hanno ancora un pochino di, diciamo, problemi di compatibilità, quindi aspetterei ancora un pochino utilizzarla, anche se in tanti progetti, ho già visto che un sacco di persone le utilizzano, ci sono anche dei plugin per WordPress, che ti permettono di avere delle webp in maniera semplice. Quindi ragazzi, vi saluto, vi ringrazio tantissimo, per essere stati con noi in questa diretta, ancora, date un'occhiata al corso Next Level UX, ancora version web design, se siete interessati a questi argomenti, altrimenti ci vediamo mercoledì prossimo, con il nuovo video, sulla nuova serie, presentazione della nuova serie, quindi vi aspetto, un abbraccione ragazzi, e ci vediamo presto. Buon pranzo anche. Ciao ciao.